Ed un saluto a tutti voi dal vostro LucaDNG, dalla vostra Gelinda Benvenuti! Benvenuti su Anvester Uno dei giochi più strani Horror Splatter Demenziali Sopra le righe Ha di tutto questo gioco È qualcosa anche di stracensurato tra l'altro È un gioco particolare Ed è un gioco, anche questo, arrivato in Italia Sì, ma solo in lingua inglese Senza neanche sottotitoli Mi sono fatto un culo a capanna Per fare quello che nessuno ha mai fatto Tradurre il gioco O almeno in parte Per una persona da sola È un lavoro mastodontico L'ho fatto solo sui dialoghi Non l'ho fatto su un menu Da qualche parte, magari, però Ho tralasciato tante cose Solo per tentare di far capire di più i dialoghi E rendere il gioco più facile da seguire Ovviamente c'è stato un adattamento E molte cose non le ho neanche adattate Perché ha molte battute che si capiscono solo Se sono lette in inglese Spero apprezziate tutta la fatica che ci ho messo Perché veramente Allora, che posso dirvi? Prima di tutto Punta e clicca Avventura grafica Con attori reali Con questo taglio molto cinematografico È particolarissimo Ma c'è una cosa che non vi aspettate È sia un ponte clicca È sia un'avventura grafica Ma si combatte anche Si combatte con armi Armi bianche Armi da fuoco Si muore C'è di tutto C'è di tutto E partiamo quindi Con questo primo episodio di questo gioco Malato Malato è il nome giusto Suona una sveglia E il nostro protagonista si sveglia Eccolo qua In tutta la sua bellezza Speriamo che funzioni bene La traduzione Perché a volte potrebbe causare problemi al gioco Perché non è che sono bravissimo a fare queste cose Suggerimenti di gioco Vabbè ma è vero Avevo tradotto anche queste cose qui Ok Ok Allora Questo era il nostro menu Sì non ho cambiato niente C'è il nostro inventario Non ho cambiato niente Qui Partiamo subito A fare le cose Fattibili All'interno Del gioco Per andare avanti Perché Ha molti Molti dialoghi Questo gioco E Vanno seguiti Come è bloccato Come è bloccato Infatti non dove Non l'ho forse ho letto male io Io non mi ricordo le traduzioni Se le ho fatte bene Moneta da 25 cents Piglia Chiappa Masticazione Pigli anche questa E non c'è altro Per adesso mi serve solo questo Possiamo già andare a Capire chi siamo Dove siamo E perché lo siamo Perché noi non sappiamo niente Heng Talk to Heng Che cosa? Allora Eee Che sei? Mi solo, Steve O che ti dirò Ok Mamma è nella cucina E se mi spiega Mi ringrazio Sì, ma proprio Mi conosci? Mi ringrazio Non, perché poi non sei mio fratello E io ho avanti E tutte le presenti quindi abbiamo perso la memoria va bene mamma ma pare che non mi ricordo ora sta fuoco come sei malato? non mi pare ma cosa ti è? ho avuto un pezzo e il stomaco allora perché non sei in bed perché voglio guardare il mio show di cattolico tu sembra bene per me non mi pare non posso andare a scuola perché sono sick padre è sicko in bed e mamma mi crede quindi non mi pare ma sei tu padre è in dormito? lui e mamma è venuto l'ultima notte molto forte è stato in bed ho visto cosa ha fatto è stato abbastanza che gli ha fatto ma non lo sai ho visto tu e lei nel cattolico l'ultima notte credo è per questo che ora è sguardo troppo male che non mi pagherò e ho avuto a dire cosa ti parli? che ragazza? cosa? c'è un'altra anche? guarda che ti parli quindi abbiamo una ragazza a quanto pare una ragazza di nome Stefani ci sposiamo e Giacomino si sposa scusami questo è un'altra ragazza di televisione come a pensare questo tutto ciò sembra è totalmente retro cosa hai detto retro? tutte le tvs sono un'altra sicuramente ma questo è un'ultima old-fashioned old-fashioned old-fashioned? è brand new sì, ma guarda il tube dove è il roma di controllo? cosa è quello? l'ultima che pensi non mi ricorda non mi ricorda e cosa hai detto? che hai detto? no, retro significa 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 oh, man io so cosa voglio che tutto qui è vero ma non posso immaginare la differenza quindi ci sta scombusolando il cervello in realtà al momento non sei neanche sicuri di far parte di questo mondo che altro? colore? nella tv? beh, io... penso che ho visto una tv colore non ho, non resta o non mi ricorda guarda hai, guarda la tua madre ti ha lasciato questo? certo questo è parte della storia che ha fatto l'America bella e inoltre le sangue e le sangue i bambini i bambini i piccoli mamma mia, come si arrabbia possiamo anche scrivere delle cose noi che ovviamente Ovviamente non risponderanno Perché noi in italiano Che cazzo capisci Non posso scrivere cosa tanto lungo Ehm Il canale è quello di Luca Di NG Non capisci Eh niente Almeno abbiamo anche messo qualcosa per dimostrare Che è tutta la farina del mio sacco La mamma Come ne ha spazzato E' tutto un po' creepy Già così Ma è solo l'inizio Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Nel mio sacco Non mi ricordo 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 Nel mio sacco O anche chi Non mi ricordo L'amore Stoppite il tuo giocatore Non ti? Honestamente Steve Mi pensi che ti cresci Un po' di scopo Dopo la scopo Mi spero Che il nuovo lavoro Poi che lo scopo Non mi ricordo Quindi è il mio nome Steve Tu non mi ricordo se non mi riusci Non mi riusci Che brutta cosa O sono tutti d'accordo O abbiamo davvero perso la memoria Chiediamo di Oh guardate abbiamo una sorella lì C'era un ragno e una zanzara Non ho ben capito Ha mangiato l'allragno Ha mangiato l'allragno Ma è solo l'inizio Ok Tua sorella ha mangiato una tarantola E non è una cosa bella Viva tra l'altro Ma come fai se Cookies Non ho capito che giorno è oggi Si Parando schifo Però dalla spazzatura Però dalla spazzatura Un chiaro Un chiaro La loggia Molto importante Eh la loggia La sala dell'ordine dell'arvello È solo la finestra E' il più esclusivo E' il più esclusivo E' il più esclusivo E' il più esclusivo È difficile dire Perché nessuno si arriva dentro Ma non sarebbe così esclusivo Se non fosse proprio meraviglioso Perchè sta pubblicità? Perchè sta pubblicità? Non ho mai usato una Ma lo so che voglio Inoltre di sfruttare All'ora All'ora Perchè non passare All'ora Perchè potremmo anche farlo? Eh sì Potremmo anche farlo E' meraviglioso Steve Se avessi all'ora Sfruttare 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 Non ho tempo Perchè 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 E' occupata E' occupata Ah Mettere fuori Il giornale per Jimmy Bisogna sempre portargli Un giornale a Jimmy Se non sei incazza E' Sono qua Dietro Gelinga Scatola piena Di giornali Usciamo fuori Ok Via Via Se non siete iscritti Iscrivetevi Attivate la campanella Per ricevere tutte le notifiche E ditemi se volete Una serie su questo gioco Hey Steve Sono Jimmy James Ricordi di me? Ah Credo non Ehi Come come ti non ti metti Il paper Perchè Non l'ho ancora dato Una Ho usciuto a casa Tanto erano tutte e due brutte Quindi al contrario Noi dobbiamo dare il giornale a lui Noi dobbiamo dare il giornale a lui Sì Non lo so Però Sì ce le ho Ti dico di sì Wow That's great Maybe we could try What could you give me? Sì Penso di non per l'orola E per che dovrebbe interessarci Perché resti due zuzzoni Cosa mi importa di quello che stanno facendo io direi Sì Sì See you later alligator È un modo di dire loro Non aveva senso tradurlo Quindi Qui c'è anche una mappa La città si può visitare tutta Ci sono tanti punti di interesse Iniziamo un po' a guardare qualcosina in giro Ma c'è davvero tanto C'è davvero tanto E il gioco prende poi una piega molto splatter Molto di combattimento strano Iniziamo dall'ufficio postale Dove possiamo provare a prendere i moduli Per iscriverci alla loggia Facciamo la domanda per la loggia Sempre fare le cose difficili ovviamente Posso andare alla loggia a prenderne uno Eh ma non fai le copie? Pessimo Va bene E allora vaffanculo Una donna cieca sta provando a leggere la posta Difficile che ci riesca Poi posso sbagliarmi ma Barba Pastorelli Parrucchiere Pastorelli Mr. Pastorelli non risponde Non capirà l'inglese Allora 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 Madonna che faccia Che faccia Non ne so niente Eh chiediamogli dell'alluminio Delle rivestimenti Aluminum siding Can't get a fair shake no more Started when those firemen came to harvest Filling peoples heads with newfangled notions like Color coordination And interior design You can paint aluminum, you know If you want to But even so I can't seem to move it anymore Not even to a rube like Pastorelli Thank God for the plumbing Il pastor Relly è un rubo da molto avanti, chiede Clem Parsons come abbiamo seguito con l'allarme io sono un plumber, potrei riferirlo per lui, ma non si può ascoltare Ok... Beh, ho visto l'inizio arrivare per l'alluminio di siding game, quindi ho preso un mail Mettati idraulico per corrispondenza Eh lo so, si, la gente scarica nel ladder di tutto, soprattutto lì da voi, mi sa Quindi lui crede negli alieni Ok, dimmi di più Quello? Lui lo prende in giro In effetti Si, infatti si, se lo poteva anche far installare a questo punto Quindi ora l'allarme va fuori Si, 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 si Mettevo gioco tutte le possibili varianti Ah questo è un trofeo di caccia, ha cacciato un alieno L'allarme Line your blind with lead to fool their sensing machines Lay real quiet in the wake Preferably in the woods around the nuclear base Oh, they love messing around out there Why not wait outside your field, Clem? Wait for them to come a-carving Oh, they do their crop doodles with zap guns you durnful Don't you know nothing? Besides, ain't no place to put the blind out in the field Now you listen to Clem Parsons If you want to tag an unearthly being Lay cross the void Wondering what lies beyond All the time not knowing Buckshot Ok The pastorelli is a funny sort Foreigner, don't you know? He cuts hair pretty good But he don't know spit about nothing else He just asks him to hook up when their arms Vabbè, abbiamo capito un po' questa gente Io direi, per questo primo episodio Sarebbe bene andare a casa della nostra ragazza Abbiamo scoperto avere una ragazza Quindi sarebbe bene riuscire anche a fare quello Questo... Ah, qui posso già comprare una cosa, mi pare Mi pare È un semplice negozio Noi possiamo fare degli acquisti Abbiamo già trovato una moneta a casa Tanti dialoghi, tanti Io sono sicuro che molte persone che amano questo gioco Saranno molto contenti del fatto che qualcuno abbia lavorato una traduzione Anche se sono io E quindi non uno che può fare lavori quanto belli Non lo abbiamo visto Per ora Eh, sì Sì A Indico Eh, voglio... Sì Sì Sì, strani oggetti Benissimo Come si fa? Sì Sì Mamma mia Lo vedete? Magazine per adulti Una rivista per adulti a 25 centesimi Devi pagare la segnata per comprare Ehm... Ah, quindi glieli devo dare prima di cliccare sul giornale Non me lo ricordavo questa meccanica Ehm... Moneta Ehm... Sorpresa Il vice Lumis Quindi ci fa capire già a chi potrebbe interessare questo oggetto Ehm... Sì 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 Capiremo poi perché dice così Allora... La... Questa è casa nostra Ah, ecco Potsdam I Potsdam Sono appunto Quelli della nostra Ragazza Ormai fidanzata Ormai sposa Sì Sì Il mio futuro figlio E come si fa oggi? Che lo porta a casa Potsdam? Eh? Eh? Ho perso la memoria Eh 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 Quella carta Mamma mia che fastidio sto rumore della televisione C'è un piccolo rascolo Ehm... Vogliamo sapere tutti di nostro padre? Vabbè Io prima ti parlo della mia video Sono assiccato Sì 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 Ma non mi fai scari così Non mi fai scari Ora guarda Un'attività è un'attività Sì 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 La carne? Cioè lo fai per la carne Cioè lo fai per la carne Cioè lo fai per la carne Beh non guarda per me La signora Potsdam vuole che Stephanie studia molto per le finali Se fosse per me potresti andare dire al sull'altra Ma sai Una piccola Tu dovrai chiedere la mia permissione per vedere Stephanie Scusa Steve L'ultima cosa che voglio fare è assicurare te e tuo padre prima della cascata Non con la carne Con la carne in gioco Tu dovrai ricordare tuo padre del carne Questa carne Ehm... Mio padre Non ho visto mio padre L'abbè 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 Come ho detto Non lo so Ehm L'abbè 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 Soprattutto della carne Ci interessa la carne Se io vedo L'abbè Soprattutto della carne Ci interessa la carne Quindi la tua carne Quindi la tua carne sarebbe al sicuro C'è anche un quadro sulla carne lì dietro La carne È la fondazione di qualsiasi società Tutto Tutto Tre al giorno E qualcuno che dice altrimenti È un comico E Una volta che sei marito con Stefani Soprattutto Soprattutto della carne Soprattutto della carne Soprattutto della carne Soprattutto della carne Che voglio Dai Non è venuto malissimo La traduzione Funziona Probabilmente prima o poi Si pianterà tutto Però al momento va E' giusto? E' giusto? Ma con forza Avevo cantato troppo presto Wow E' umore C'è proprio nel gioco Non è il computer Le ventole Qualcosa Faremo il matrimonio Nei pompe funerari Soprattutto Ora Soprattutto Non è un paio romantico Ma non c'è niente da guardarlo Grazie a Mr. Podstum Si dice Eh si Qualche errorino c'è Eh si Qualche errorino c'è Invece Sono notti Invece Invece Sono notti Si insomma Se non fai parte della loggia Sei una merda Se fai parte della loggia Hai tutto Dice Dice Va bene Se li vedo Posso adesso salire? Scusate Ricordate Si Si Scusate Va bene Quante volte Te lo devo dire Sì Di nuovo Va bene Vi ricordo che se volete potete aiutarci diventando nostri sponsor gold Così avete anche l'accesso a un casino di contenuti in più Veramente tantissimi A centinaia Fateci un pensierino Oh ma cosa c'è qui? Spiamo Quindi questa è Stefani Questa è Stefani Questa è Stefani Questa è Stefani e Mommy Bene Non avremmo dovuto dare questa sbirciata Ma l'armadietto di Medicinali Hier spigliamo tutto Ci sono vitamine Ci sono Aspirina pigliamo lasciamo stare che cos'è questa medicina per la tosse non usare per i biscotti vitamine prendiamo filo interdentale ok si direi che per il momento possiamo anche ah è così che si combatte mi ero dimenticato col tasto destro del mouse sarà molto bello vedere queste cose quindi grazie per aver guardato questo episodio un saluto a tutti voi dal vostro Luca Dng e non perdetevi assolutamente le prossime se ci saranno fatemelo sapere nei commenti per me è molto importante ciao grazie a tutti grazie a tutti